Bella ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovo video di Fortnite E' giunto il momento di inerdare tutti quanti assieme alla modalità salve il mondo Ebbene si ragazzi, su Twitter è stata postata direttamente dalla Epic Games una notizia, una notiziona che riguarda questa modalità Ci spostiamo sulla pagina di Fortnite, quindi sulla notizia ufficiale perché ve ne voglio un po' parlare Allora, il titolo è Il re della tempesta è in arrivo su salve il mondo In pratica una nuova modalità con un boss finale da sconfiggere Per poi essere premiati con qualcosa che sicuramente vi piacerà, ma sicuramente avrete già letto dal titolo e avete visto anche dalla copertina Leggiamo un po' che cosa dice quest'articolo Finalmente possiamo parlarvi di qualcosa a cui stiamo lavorando da un sacco di tempo Nell'ultimo anno lo svolgersi degli avvenimenti ha portato a un'inevitabile drammatica conclusione E ora Il re della tempesta approda nella stagione 7 Attenzione qui ragazzi Il re premierà ogni giocatore che riuscirà a sconfiggerlo con una sorpresa speciale Per festeggiare la fine di Vallarguta, atto 3, abbiamo creato una sfida che porterà quest'arco narrativo a una conclusione più che appagante Questa battaglia metterà alla prova le tue abilità di costruzione, la tua prontezza in combattimento e il tuo accumulo di risparmi Porta con te tre amici e preparati ad affrontare la tempesta Quindi ragazzi cominciate a preparare un team fisso solamente per andare a completare tutta quella che è la storyline di Save the World Quindi della modalità salva il mondo Perché abbiamo poco tempo per andare a completare il tutto Io che non sono un player di questa modalità non so quanto ci si possa mettere in realtà Fatemelo sapere qua sotto nei commenti Anche perché dovrò organizzare una squad per andare a completare tutte queste missioni assieme E sinceramente però non ne so, veramente poco si salva il mondo Quindi questo qui è il primo video che vi sto portando sul canale che riguarda questa modalità Spero di portarvene altri Non ne ho portati finora perché essendo inesperto all'interno di questa modalità Non volevo portare cose forzate solamente per fare visualizzazioni Ma volevo diciamo più o meno capire bene come funziona il tutto dentro Save the World Prima di portare qualcosina dentro il canale Quindi quando carichi la missione ti ritroverai in una caverna oscura E qui ci siamo Da quel momento in poi starà a te decidere il modo migliore per abbattere il re della tempesta E da qui in poi ci sono 4 punti in cui ci spiega ciò che otterremo completando questa missione E ora andiamo a ciò che ci interessa ragazzi Annuncio speciale I giocatori che riusciranno ad abbattere il re della tempesta Entro le 5.59 quindi le 6 del mattino del 2 gennaio 2019 Otterranno una versione speciale a tiratura limitata della spilla re della tempesta Che spediremo gratuitamente boys Raga questa mega spillona ma è troppo bella È troppo bella direttamente da Epic Games Direttamente da Fortnite a casa vostra Ci sta come piccolo omaggio solamente per aver completato una missioncina in game Che poi non so quanto sarà ardua sinceramente Voi che giocate a Save the World ragazzi Tutti voi che siete miei iscritti Tutti coloro che oltre a Battle Royale giocano a salva il mondo Secondo voi quanto può essere difficile questa missione? Davvero sono un abbo in materia Quindi aiutatemi anche voi nei commenti Scrivete ciò che ne pensate di tutto ciò Quanto tempo ci vuole approssimativamente per completare tutta la storia Perché a quanto ho capito bisogna arrivare all'ultima missione Dove dobbiamo sconfiggere questo re della tempesta Mi raccomando ragazzi lasciate tanti like Commentate qua sotto se volete altri video che riguardano Salve il Mondo Se volete altri video flash news alle 7 del mattino In cui vi posto delle notizie super flash in questa maniera Continuiamo quello che è l'articolo dove c'è scritto Non appena sconfiggerai il re della tempesta riceverai una notifica di gioco Che ti chiederà di verificare la ricezione di un codice speciale nella tua mail Quindi ragazzi mail verificata a portati di mano Perché riceverete tutto lì dentro Segui le istruzioni contenute nelle mail e la spilla arriverà a casa tua Ora andiamo a leggere quelle che sono le informazioni importanti Va bene ragazzi? Ci sono determinati punti da seguire per far sì che questa spilla arrivi a casa vostra Il primo punto dice Per ottenere la spilla devi avere un account Epic Games collegato con un indirizzo mail valido La procedura è riportata qui Ed ora qui ci saranno tante persone che mi scriveranno sicuramente che hanno dei problemi riguardanti la propria mail In quanto l'avranno inserita in maniera errata ad inizio game Ma ragazzi io mi chiedo perché avete continuato a giocare su quest'account di cui avete appunto un'email errata? Perché se avete l'email errata e non potete ricevere questo codice Epic Games ancora non permette sul sito stesso di cambiare la propria mail Quindi ragazzi o vi fate un altro account e giocate a Save the World Oppure altrimenti se non avete accesso alla vostra mail non so proprio come avviutarvi Comunque per coloro che invece devono linkare il proprio account magari da Xbox oppure da PS4 All'account Epic Games è un'altra cosa, è un'altra storia Infatti la procedura dice che è riportata qui volendoci possiamo cliccare Ve la lascio anche qui in descrizione Non dovrete fare altro che entrare all'interno del sito Epic Games Andare alla sezione account collegati e inserire le vostre credenziali Se volete in caso vi porto anche un video a parte Ma comunque come già detto ragazzi vi lascio tutto qui in descrizione Sarà tutto quanto ben chiaro e direttamente spiegato dall'Epic Games Nel secondo punto ragazzi dice Tutti i giocatori devono avere attiva l'autenticazione a più fattori Ho spiegato migliaia di volte sia all'interno dei miei video che all'interno delle mie live Come andare ad effettuare questa procedura a due fattori O tramite QR code oppure tramite email Lo spiegai anche in quello che è il video per ottenere il balletto boogie down Se volete vederlo ve lo lascio qui sopra tra le schede Perché appunto spiego direttamente lì come effettuare questo procedimento tramite email Terzo punto Per essere idonei tutti i giocatori devono aver sbloccato l'incarico Re della Tempesta L'incarico si ottiene completando la campagna Alzati e combatti Il quarto punto dice Questa email potrebbe arrivarti tra qualche giorno Se non ti arriva immediatamente non preoccuparti ce la faremo Quindi raga una volta che avete completato tutte le missioni Quando avrete sconfitto il Re della Tempesta e ricevuto la notifica nel gioco Se non vi arriva subito l'email non preoccupatevi Controllate ogni tanto la vostra casella postale perché sicuramente ci saranno dei ritardi In quanto troppi giocatori andranno a completare questa missione Ci sarà un sovraccarico enorme Se hai già sconfitto il Re della Tempesta puoi comunque ottenere la spilla e ricevere un email con le istruzioni Quindi questa promozione della spilla è attiva dal 6 dicembre fino al 2 gennaio 2019 Raga io credo che sia un'idea fantastica Anche perché avremo un oggetto direttamente mandato a casa nostra dalla Epic Games Quindi dagli Stati Uniti Che riguarda il nostro gioco preferito Io non posso immaginare quante spille dovranno mandare in tutto il mondo raga Cioè è esagerato Oh mio dio Comunque ragazzi il video si conclude qui Spero che vi divertirete veramente tanto con tutti i vostri amici Con la vostra squad andando a completare queste missioni E niente ragazzi ora mi tocca nerdare pure a save the world E andare a sconfiggere il Re della Tempesta Perché la voglio questa spilla La voglio Noi ci becchiamo molto ma molto presto ragazzi O in live mi raccomando seguite le mie live serali Oppure nei video guida che riguardano il pass battaglia Un salutone da Martex Ciao brothers Ciao..! Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie.